Devo dire se ne sta parlando, credo che questi video a livello di visualizzazione sono stati visti davvero da tante persone, io anche il quarto video l'ho guardato come ho commentato ieri con molta attenzione e non deve assolutamente scemare l'attenzione, ovviamente c'è attesa anche per il risvolto giudiziario di queste vicende, soprattutto bisogna fare in modo che non scompaiano quelle immagini nel senso che vengono dimenticate, quello non è un film, al di là di come si vogliono valutare i fatti penalmente rilevanti, quella è una realtà inquietante, alcuni di quei fatti consumati a poche centinaia di metri da questo palazzo, in un tema che riguarda molto la vita dei nostri territori, la vita dei nostri abitanti, le tragedie del passato ma evidentemente i crimini che continuano e vi assicuro che anche a me che faccio il sindaco, quelle immagini fanno molta rabbia, fanno molta rabbia non solo perché sono fatti gravissimi ma perché io so perfettamente che cosa è costato e costa in termini amministrativi, politici, istituzionali, economici aver distrutto quel tipo di sistema quando siamo entrati nel governare questa città e so perfettamente gli ostacoli che ci sono stati e che ci sono e so perfettamente che noi siamo usciti dall'emergenza di rifiuti ma non siamo ancora nell'ordinaria età e lo dicono anche in quelle riprese audio-video, quello lo dice a un certo punto, noi siamo in emergenza, andiamo a vedere come fanno gli affidamenti, come li prorogano, come fanno le percentuali, le tariffe sui rifiuti e allora questo fa veramente rabbia e la politica se veramente è tutta per la moralità, contro la corruzione e contro le mafie, invece di scagliarsi contro i giornalisti, poi sull'inchiesta ognuno la può pensare come vuole, ci mancherebbe altro, bisognerebbe scagliarsi contro il sistema e soprattutto ancora meglio colpirlo prima che lo scopre un magistrato o che lo scopre un giornalista e invece mi pare che questo non è accaduto, quindi i giornalisti facciano il loro lavoro in autonomia e indipendenza, il giornalismo d'inchiesta è sempre salutato con un applauso da parte nostra, mi auguro che i magistrati facciano altrettanto il loro lavoro in piena autonomia e indipendenza e la politica quella buona si faccia sentire e i cittadini in modo pacifico si ribellino, perché io credo che se tutti rimangono in silenzio, sono indifferenti e anche questa non è una buona notizia, anche su questo l'indignazione, la ribellione sociale di fronte a questi fatti io penso che non sia un fatto negativo ma sia un fatto positivo.